Quattro giri alla conclusione, sotto una pioggia battente partono anche gli atleti del secondo anno. Dopo il breve tratto di trasferimento piede a terra e viene data la partenza ufficiale per questa seconda gara di giornata con gli atleti che dovranno percorrere 41 km prima di transitare sotto lo striscione d'arrivo. Anche la seconda gara di questo ottavo trofeo comune di Breno è segnata dal maltempo, una pioggia battente ha accompagnato gli atleti per tutta la gara del primo anno e non ha mai smesso. Anche il secondo anno sono partiti, hanno fatto il trasferimento sotto una pioggia battente e anche in queste prime fasi stanno continuando a prendere acqua. Partenza più vivace rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza. Gli atleti del secondo anno hanno cominciato sin dalle prime pedalate a darsi battaglia. Questo ci fa ben sperare per una gara molto divertente. Una gara che si preannuncia anche dura perché con il percorso messo a puntino dall'Unione Ciclistica a Valle Camonica e con la Piglio che contraddistingue questi primi chilometri, nel finale la fatica si farà sicuramente sentire. E dalle immagini abbiamo visto che i primi attaccanti di giornata, Nicolas Borsarini e Lorenzo Ghirardi, sono stati ripresi dal gruppo, i primi temerari che sono partiti praticamente subito dopo il via. Staremo a vedere se nel corso della gara qualcun altro tenterà un'azione da lontano. E' a comando in questo momento il Bergamasco della Cicliperacchi di Sovere che con una bellissima trenata mette in fila la testa del Plotone e cerca di tirar fuori un drappello. Sono in quattro in questo momento che cercano di evadere dal gruppo. Si tratta del numero 78 della Cicliperacchi, come detto in precedenza, Michele Bonetti. In sua compagnia troviamo Alessandro Belussi dell'Ossa Nesga, Luca Grisaffi del Rodengo Saiano e un atleta della Ronco del quale purtroppo non riusciamo a intravedere il numero. Ma il Plotone reagisce subito, è il numero 60 che prende la testa con un'azione solitaria e cerca di guadagnare qualche secondo. Alessandro Viscardi della Polisportiva Albano Ciclismo, ma sono solo una ventina i metri che lo separano dalla testa del Plotone, il Plotone che si sta frazionando. Vedremo se nel proseguio dei chilometri ci saranno ulteriori sviluppi o il gruppo tornerà compatto. La situazione quindi in questo momento vede al comando Alessandro Viscardi dell'Albano Sant'Alessandro. Più indietro ci sono cinque uomini che stanno tentando di riacciuffare il fuggitivo e poi ancora il resto del gruppo, ma la situazione è veramente in continua mutazione. Sono trascorsi solamente 5-6 chilometri di gara, abbiamo già visto tantissime azioni e nuovamente il numero 60 Alessandro Viscardi della Polisportiva Albano che mantiene alta l'andatura, cerca di tirar fuori la fuga, ma rispondono prontamente l'atleta in maglia ossa nesga. Il numero 68 Alessandro Belussi ancora una volta al comando. Il numero 74 del Velo Club Sarnico, si tratta di Lorenzo Facchi che a loro volta rilanciano l'azione e cercano di promuovere la fuga. Stiamo per arrivare al primo scollinamento, all'ingresso della tangenziale con un altro uomo che si aggiunge alla testa della corsa. Il numero 77 Alessandro Romele, altro bergamasco della Cicli Peracchi di Sovere che con una trenata porta in avanscoperta un terzetto. Purtroppo Alessandro Viscardi ha dovuto cedere il passo, restano in tre al comando. Ricordiamo la composizione del terzetto con Alessandro Romele, Alessandro Belussi e Lorenzo Facchi. Il terzetto al comando intanto sta guadagnando secondi preziosi. Siamo intorno ai 10, quelli che attualmente li dividono dal resto del gruppo. Come vediamo dalle immagini, gli atleti in avanscoperta vanno di comune accordo ma adesso stanno affrontando quello che è il tratto più impegnativo per sfuggere al plotone. L'abbiamo detto anche nella gara precedente, questo tratto in falso piano che tende tutto a scendere agevola ovviamente il plotone ma come vediamo sempre dalle immagini ormai sono rimasti una quindicina di atleti in gara che stanno cercando di riportarsi sui fuggitivi. Questo è un momento chiave della corsa, vedremo se gli atleti in avanscoperta riusciranno a mantenere e guadagnare altri secondi preziosi o se dovranno arrendersi nuovamente alla potenza del gruppo. Questo è un momento molto importante anche dal punto di vista psicologico perché i tre attaccanti hanno il gruppo che li tiene con la fiata sul collo una quindicina di secondi, il loro vantaggio sono ormai diversi chilometri che il gruppo li ha in mira ma non riesce a raggiungerli. I tre stanno tenendo duro, cambi regolari sempre a tutta per cercare di non farsi riprendere e di far desistere la rimonta del plotone. Plotone è guidato in questo momento dal Rodengo, Springedi e Ronco sono queste le squadre più attive che stanno cercando di organizzare l'inseguimento verso gli attaccanti di giornata. Come vediamo però chiedono subito il cambio gli atleti come vediamo dalle immagini però l'inseguimento non sembra molto convinto gli atleti chiedono subito il cambio sarà anche la pioggia che continua a battere sulla loro faccia non è semplice anche andare a cercare di ricucire lo strappo. e questo tira e molla, questo elastico che sta facendo la testa del plotone non fa altro che avvantaggiare i fuggitivi perché quando si mena si guadagnano un paio di secondi ma nel momento in cui si rallenta davanti l'andatura regolare permette di guadagnarne 6-7 quindi il vantaggio sta piano piano crescendo. Ma non è facile neanche stare in testa come vediamo dalle immagini infatti numero 74 Lorenzo Facchi della Velo Club Sarnico non riesce a tenere il ritmo dei suoi compagni di fuga sta pian piano perdendo terreno vedremo un po' cosa succederà. Non siamo ancora giunti a metà gara ma le emozioni per il pubblico che si è ritrovato sulle strade a Camune per vedere l'ottavo trofeo comune di Breno sono state davvero tante e davvero forti. Lorenzo Facchi è stato ripreso dal gruppo ed è in testa a aiutare i suoi compagni nel tentativo di recuperare sui fuggitivi che in questo momento hanno ancora 15-20 secondi di vantaggio. Il plotone non ha ancora mollato anzi si sta organizzando appunto per l'inseguimento infatti le squadre girano sulla testa del gruppo per cercare di chiudere il gap. Metà gara infatti gli atleti vedono il cartello che indica due giri al termine due giri sono già stati compiuti la lotta tra la coppia al comando e la testa del plotone continua una lotta veramente all'ultima energia perché i due non hanno nessuna intenzione di arrendersi stanno dando veramente tutto per far desistere l'inseguimento da parte del plotone vedremo chi l'avrà vinta sicuramente i due non hanno nessuna intenzione di farsi riprendere dal gruppo per riprovarci se verranno ripresi molto probabilmente avranno già speso ormai tutto e quindi alzeranno bandiera bianca intorno a metà del terzo giro vediamo che il plotone sta calando bruscamente l'andatura ormai gli atleti sembrano aver mollato sembrano aver desistito in quello che era la loro voglia di andare a recuperare gli atleti al comando torniamo con le immagini sui due di testa ormai il vantaggio sta crescendo a dismisura quasi tre minuti quando transitano al suono della campana ormai possono pensare solamente a giocarsi la vittoria dietro il plotone ha definitivamente mollato dalle retrovie sono rientrati anche gli inseguitori i ritardatari il gruppo è diventato di una trentina di unità e ormai non si pensa più ad andare a prendere i due ma si risparliano le energie per la volata finale del terzo posto continua invece la lotta per quanto riguarda la coppia al comando vediamo, sembra più fresco dalle immagini Romele che continua a mantenere la posizione al comando in questo tratto in salita vedremo un po' cosa accadrà manca davvero poco al traguardo ci giungono brutte notizie per Romele che all'ultimo chilometro è stato vittima di una foratura è un vero peccato per lui mentre per Alessandro Belussi la gioia di involarsi tutto solo verso il traguardo e di ottenere la sua seconda vittoria in questa stagione 2017 Alessandro Romele riesce comunque a mantenere la seconda posizione grazie all'enorme vantaggio accumulato durante la corsa e transita purtroppo con uno sfogo di rabbia per la foratura dietro è volata del plotone molto sfilacciato sulla salita finale vinta da Riccardo Perani della Ronco che conquista la terza posizione precede Manuel Tebaldi dell'Ossa Nesga Matteo Bertesago dell'Inbalplast Lorenzo Facchi del Velo Club Sarnico Alessandro Viscardi dell'Alpolisportiva Albano Alex Bono del Progetto Ciclismo Cristian Basana del Pedale Orceano e Samuele Rota della Ossa Nesga che chiude in decima posizione Alessandro Belussi, Ciclismo Ciclismo a Nesga oggi vincitore della categoria esolente secondo anno per voi una cavalcata in due dei quattro giri previsti raccontaci un po' questa gara molto tirata per voi sì è stata una gara molto dura partiti subito molto forti con una fuga a tre io ho Alessandro e Facchi del Sarnico poi al secondo giro quando avevamo circa 30 secondi di vantaggio Facchi si è staccato abbiamo continuato a crederci io e Alessandro fino a guadagnare terreno Poi all'ultimo chilometro Alessandro è stato molto sfortunato Purtroppo per lui ha forato e niente Io sono andato e sono arrivato da solo all'arrivo Senti oggi condizioni climatiche molto molto difficili Più oltre tutta la gara E hai previsto un attacco vostro nella fase iniziale E è venuto un po' a caso questa solo, questa fuga in due Beh innanzitutto volevo far bene oggi Però non me l'aspettavo di partire così presto al primo giro Infatti non ci credevo molto perché comunque non guadagnavamo subito sul gruppo Che era sempre a 15 secondi Però alla fine quando abbiamo iniziato a tirare, a collaborare bene E non ho iniziato a crederci e niente Chi va la dedica di questa vittoria, numero due in stagione per te? La mia dedica va al mio direttore sportivo Ivan Cornolti Alessandro Romele, cicli per Achesovar E oggi protagonista sfortunato nel finale Raccontaggi un po' la tua gara Beh come al solito gara abbastanza dura Media alta E' stata una gara fin dall'inizio piena di fughe e tentativi vari E ho cercato di infilarmi nella migliore E ce l'ho fatta arrivando all'arrivo L'ultimo chilometro avevo bucato E ho limitato i danni arrivando al secondo Ottimo risultato Sei comunque quindi contento nonostante questa sfortuna Ti abbia impedito oggi di conquistare la seconda vittoria in stagione? Sì, sono comunque abbastanza contento Ovvero è meglio un primo posto ma ci acconteniamo comunque C'è comunque spazio per i passi prossimamente dai Sì sì, abbiamo ancora più di metà stagione avanti e cerchiamo di continuare così Riccardo Perani, Ronco Morigi Oggi terza classificata fa gli esordienti secondo anno Tu hai atteso lo sprint per conquistare il podio? Conta un po' la tua gara Beh sì, ho sbagliato a non correre dietro a Rumele E all'altro non mi ricordo il nome Però comunque è stata una gara molto impegnativa Anche con la pioggia siamo stati attenti sulle curve Ho tentato anche di partire per andarli a riprendere Però il gruppo mi ha subito ripreso Si poteva oggi comunque poter inseguire i due fugitivi O comunque avevano una marcia in più di voi? Beh sì, abbiamo provato a fare dei cambi veloci Però non ce l'abbiamo fatta Giovanni Salvetti, patron dell'Unione ciclistica Valcamonca Che oggi ha segnato questa manifestazione Oggi in questo momento il sole che fa da cornice finale Questa prova comunque molto complicata anche per gli organizzatori Sì, beh adesso è uscito il sole ma prima ha piovuto parecchio Quindi purtroppo è così Siamo abituati perché tutti gli anni o poco o tanto piove qua Quindi anche se quest'anno l'abbiamo fatto un po' più tardi È andata così anche quest'anno Comunque niente dai Comunque la gara è andata comunque bene mi sembra E devo ringraziare prima di tutto il comune di Breno Che anche quest'anno ci ha ospitato E che ci supporta sempre Tutti gli sport che ci supportano comunque E tutte le persone che hanno collaborato Per la realizzazione della gara Sandro Farisoglio, sindaco di Breno Che oggi avete affiancato Possiamo dire non ci chiesti per questa ottava edizione del trofeo Ormai è diventata una tradizione per la nostra cittadina Ospitare questa manifestazione Che viene proposta e organizzata Dall'Unione Ciclistica di Valle Camonica Al quale va il merito appunto di organizzare Questa manifestazione a Breno Ma direi tutto lo sport Il tema di ciclismo in Valle Camonica Soprattutto rivolto ai più giovani Tiriamo un po' le somme finali di questa manifestazione Che giunge quest'anno all'ottavo anno Che ormai fa parte del Possiamo dire del costume di questa cittadina Ma mi pare di capire Io non conosco bene il ciclismo Non praticandolo Ma appunto parlando con i partecipanti Piace molto il percorso La zona E quindi partecipano sempre molto volentieri Numerose squadre anche da via E questo ci onora ancora di più E ci sprona a far sì che anche nei prossimi anni L'Unione Ciclistica possa continuare a organizzare questa manifestazione Quindi confermato Sicuramente voi appoggerete anche per l'anno prossimo Questa manifestazione Non potremo che fare diversamente Se ci sarà la richiesta appunto Dall'Unione Ciclistica Dall'Unione Ciclistica Dall'Unione Ciclistica